Oggi siamo qua, ecco seduti sull'Outreak in una versione limited edition o edizione limitata. La cosa più interessante che stiamo facendo in questi anni? Questo progetto si inserisce in una serie di ricerche e sperimentazioni che abbiamo fatto in onore dei 90 anni di Cassina e si chiamavano Mutazioni. Nel 2016 ci propose di fare un lavoro sul vestito, di fare comunque una pelle speciale, fare un abito speciale. Quest'anno, nel 2017, abbiamo fatto una nuova collaborazione, in questo caso con Maharam e Quadrat, questo tessuto di Paul E. Smith crea una veste molto interessante. L'asse craft, vuol dire prodotti non così industrializzati, molto più artigiani e il design, sono cominciati a diventare degli argomenti molto, anche loro molto interessanti. Queste esplorazioni dentro di una industria come Cassina, attraverso dei classici ma anche attraverso di nuovi personaggi con cui stiamo lavorando, aprono comunque dei nuovi scenari e credo che comunque per noi sia una delle tante maniere di esplorare e di tenere vivi tutti i nostri classici. Stiamo ragionando tante volte non soltanto sulla pelle, a volte sulla struttura, sul colore, ma sempre con dei dialoghi molto ragionati, con delle esplorazioni che hanno un senso e che assolutamente ci divertono. Grazie.